Allora appello appello a tutti i miei amici colleghi e conoscenti non per cortesia se non volete essere mandati a fare in bip non mi fate più l'elenco delle cose che ha vinto Carlo Ancelotti prima di venire a Napoli non me ne fotte proprio ok non me ne fotte. Mi scuso per gli amici di Bergamo che mi seguono che adesso parlerò un po' in dialetto e forse non tutto riuscirete a capire me ne scuso di quello che ha vinto Ancelotti prima di venire a Napoli non me ne fotte più non me ne fotte più sta facendo schifo ok questo è un video sfogo non me ne fotte più di quello che ha vinto fino a ieri non mi interessa non me ne fotte qua sta facendo schifo e deve andare via deve andare via lo sto dicendo. da un po' di tempo ok quindi non me ne fotte non me ne fotte nel calcio quello che si è fatto ieri non conta niente a Napoli sta facendo schifo quindi deve andare via ok non me ne fotte non me ne fotte quello che ha vinto va bene va bene va bene via via Ancelotti buonanotte va bene 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 va